Buongiorno e bentrovati alla prima edizione della TG6. Si allarga l'inchiesta sugli appalti gestiti dalla regione Abruzzo. Ieri è emerso un quarto filone, quello relativo ai lavori di riqualificazione del parco comunale Villa delle Rose a Lanciano. Su questo versante risultano indagati gli assessori regionali Pepe, Sclocco e Paolucci. Andrea Costantini. Dopo il presidente della regione Luciano D'Alfonso altri tre rappresentanti della giunta regionale risultano indagati. Si tratta degli assessori Silvio Paolucci, Marinella Sclocco e Dino Pepe coinvolti nell'ambito di un quarto filone appena emerso nell'ampia inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila che vuole vederci chiaro su alcuni appalti gestiti dalla regione Abruzzo. Quarto filone che riguarda i lavori di riqualificazione del parco comunale Villa delle Rose a Lanciano. I tre assessori sono indagati per falso ideologico per aver partecipato alla riunione dell'esecutivo e votato alla delibera della giunta abruzzese numero 367 del 3 giugno 2016 relativa proprio al parco Villa delle Rose. Su questo stesso fronte sono indagate altre sei persone. L'inchiesta coordinata dal PM Antonietta Picardi e condotta dai carabinieri del NOE e dalla squadra mobile di Pescara promette ancora sviluppi a breve. L'appalto sul parco di Lanciano è tuttora in corso e ha un valore di 1,5 milioni di euro, 1,2 assicurati dalla regione e 300.000 stanziati dall'amministrazione comunale. Due giorni fa gli investigatori sono tornati a Palazzo Silone all'Aquila per sequestrare alcuni documenti tra cui la suddetta delibera. Il quadro generale delle indagini si fa sempre più complesso. Sono 27 gli indagati per corruzione, abuso d'ufficio e turbativa d'asta tra cui funzionari regionali, professionisti, imprenditori oltre al presidente della regione e i tre assessori. I tre precedenti filoni già emersi la scorsa settimana sono quelli relativi alla ristrutturazione post terremoto di Palazzo Centi all'Aquila e i due del pescarese per cui risulta indagato il governatore D'Alfonso, uno inerente preventivi di spesa per la manutenzione di immobili a terra a Pescara. L'altro interventi previsti dal masterplan per il comune di Letto Manoppello, D'Alfonso che sarà difeso dagli avvocati Giuliano Milia e Antonio Valentini. Intanto già in questa settimana prenderanno il via gli interrogatori. Domani davanti allo sostituto procuratore Antonietta Picardi si presenterà l'imprenditore Mauro Pellegrini della impresa Dipe difeso dall'avvocato Massimo Carosi. È indagato nell'ambito della gara per la ricostruzione di Palazzo Centi, poi toccherà ad altri indagati oltre che persone informate sui fatti. E questo è il commento del presidente della commissione di vigilanza e consigliere regionale Mauro Febo. A conferma di ciò che da tempo provo a far capire agli abruzzesi e soprattutto a questo esecutivo regionale, oggi arriva un'inchiesta della magistratura che intende fare chiarezza sui contenuti procedurali e amministrativi degli atti adottati dalla stessa giunta. All'indomani dell'approvazione della delibera numero 367 del 3 giugno del 2016, precisamente il 16 giugno, unitamente l'onorevole Fabrizio Di Stefano e il candidato sindaco di Lanciano Enrico D'Amico, abbiamo fatto una conferenza stampa proprio per denunciare il contenuto di una DGR, dove di fatto non vi era né il parere di bilancio né l'impegno di spesa, ma cosa più grave, il progetto del Central Park era demandato al direttore generale per la cantierabilità. La preoccupazione, spiega Febo, era ed è dettata proprio da leggere decine e decine di delibere di giunta dove mancano gli impegni di spesa del settore bilancio che rendono praticamente gli atti amministrativi fumo e di difficile, se non impossibile, copertura finanziaria, senza dimenticare che alle stesse non viene data la pubblicità che norme e regolamenti impongono. E sarà senza precedenti la marcia di protesta che i sindaci dei comuni terramani stanno organizzando per il 2 marzo a Montecitorio. Alla manifestazione aderiranno anche la provincia di Teramo, le associazioni di categoria e tanti cittadini. La richiesta più importante sarà quella di sgravi fiscali e agevolazioni da estendere a tutto il territorio provinciale che sta subendo un vero collasso economico. Intanto il governatore D'Alfonso è già in viaggio per Roma dopo che il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione urgente che impegna il Presidente della Regione a richiedere l'allargamento del cratere sismico ai territori montani della Valle Siciliana. Tania Bonici Castelli. L'esercito dei sindaci terramani insieme ai rappresentanti di categoria, commercianti e semplici cittadini si sta mobilitando per marciare su Roma martedì 2 marzo. Una battaglia di tutte le forze del territorio per ottenere dallo Stato gli aiuti necessari a risollevare la provincia di Teramo, disastrata dalla tempesta perfetta di neve, terremoto e blackout elettrico prolungato che si è verificata a gennaio scorso. Il Sindaco Maurizio Brucchi e il Presidente Renzo Di Sabatino, entrambi ricevuti in audizione in Parlamento, hanno descritto l'emergenza terramana che necessita di interventi strutturali importanti. Il primo cittadino di Teramo ha chiesto interventi per rinnovare la rete elettrica e controlli sulla diga di Campotosto. Di Sabatino, da parte sua, ha chiesto la revisione del cosiddetto decreto sisma, che è attualmente all'esame della Commissione Ambiente e della Camera dei Deputati, prima di essere convertito in disegno di legge. Per il Presidente della provincia, il sostegno economico dello Stato deve riguardare tutti i comuni del Teramano, poiché le emergenze delle aree interne danneggiano anche la costa, che sta subendo al pari delle località di montagna un tonfo del turismo. Anche la Regione Abruzzo si sta muovendo verso la richiesta di allargamento del cratere sismico per i territori montani della Valle Siciliana, un'area che comprende i territori di Isola del Gran Sasso, Colledara, Pietracamela, Fano Adriano e Castelcastagna. Il Consiglio regionale ha infatti approvato all'unanimità una risoluzione urgente proposta dal capogruppo del Partito Democratico, Sandro Mariani, che impegna il Presidente Luciano D'Alfonso a chiedere l'adeguamento del cratere sismico alla luce dei danni che stanno emergendo. Il Governatore sarebbe già in viaggio per Roma. E la frazione di Ponzano, di Civitella del Tronto, ormai una località fantasma. La frana che ha colpito il territorio terramano oltre dieci giorni fa continua ad avanzare il servizio. Il terremoto e il maltempo che ha colpito il centro Italia sta cancellando una popolosa frazione del terramano. Ponzano, di Civitella del Tronto, ormai è una località fantasma. Strade scomparse, case distrutte, inclinate e altre che sono destinate a crollare. La frana, che ha un fronte di oltre 30 ettari, continua a muoversi e laddove ora ci sono case inagibili non si potrà più ricostruire. Chi ha costruito la sua vita a Ponzano ora dovrà spostarsi altrove. Sono complessivamente 98 le persone che hanno dovuto abbandonare le rispettive abitazioni, 33 le case distrutte. I vigili del fuoco, impegnati con uomini e mezzi ormai da settimane nella frazione, stanno ancora garantendo assistenza ai residenti che devono recuperare le proprie cose nelle case distrutte. Uno scenario drammatico in continua evoluzione, oltre una settimana dopo l'avvio della frana, Ponzano, di Civitella del Tronto, ha perso buona parte delle sue caratteristiche. Le misurazioni attraverso il GPS effettuate dalla protezione civile hanno misurato uno spostamento di oltre 8 metri e mezzo. Una frana che non si arresta, anzi, la preoccupazione è che lo spostamento della terra possa in qualche modo toccare la zona al di sopra del grosso muro di contenimento. La strada provinciale 8 è stata chiusa al traffico. La frana ha provocato ampie fratture sulla strada di oltre 10 metri. Grande lavoro in questi giorni per i vigili del fuoco in servizio presso il comando di Teramo che stanno lavorando per lo svuotamento dei depositi di GPL installati sui terreni in frana, effettuati in collaborazione con le ditte distributrici mediante la combustione in fiaccola del gas ancora contenuto nei serbatoi. Paolo Marsan, geologo della protezione civile nazionale, è stato a Ponzano e accompagnato dagli amministratori ha effettuato un lungo e accurato sopralluogo per monitorare lo stato delle cose. La zona non è immune da frane, ha sottolineato il geologo. Una peleofrana l'ha definita, il grosso accumulo di neve che poi si è sciolta, ha avuto l'effetto di alimentarla, di rimetterla in moto con lo scenario che ora è sotto gli occhi di tutti. A Ponzano è arrivata anche la sezione operativa dei vigili del fuoco di Parma che ha dato il cambio a quella di Rimini, impegnata insieme al personale del comando di Teramo fin dal giorno di inizio della frana ad assistere la popolazione così duramente colpita da questa emergenza. E ancora disagi nell'area Vestina dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'intero territorio. A Farindola gli allevatori fanno la conta dei danni subiti e si dicono preoccupati per le prossime produzioni e quindi il mancato fatturato. Vestina News. Pietro Paolo Martinelli ha un mese esatto dalle abbondanti nevicate che hanno messo a terra l'area Vestina. Adesso ci troviamo qui nella sua azienda, come è la situazione? Dalle immagini vediamo che è una situazione di disagio e tragica. Purtroppo è tragica, stiamo lavorando incessantemente al fine di ripristinare una situazione idonea per ripartire con la nostra attività, ma non avendo avuto grossi aiuti, lavorare con le proprie forze implica il tempo. Occorrono ancora diversi giorni, infatti in un mese siamo a malapena riusciti a liberare la stalla quella dove erano le pecore in lattazione che purtroppo sono morte e adesso dovremo iniziare a liberare la stalla quella dove avevamo i mezzi al coperto. Le produzioni purtroppo con la perdita delle pecore in lattazione sono diminuite di due terzi. Avevamo una raccolta giornaliera di latte di 800 litri e adesso stiamo facendo appena 280-300 litri al giorno. Quindi soprattutto questo è il punto che mi preoccupa molto di più, le mancate produzioni per i prossimi 4-5 mesi che di conseguenza porteranno a una diminuzione di prodotto, a una diminuzione di fatturato. Sarebbe utile anche che le forze politiche venissero sul posto a controllare di persona come è la situazione per rendersi conto di quali potrebbero essere anche le cose da fare? Quello sarebbe la prima cosa, infatti io auspicavo in una visita del Ministro Martina cosa che invece a quanto pare non è ancora avvenuta perché solo stando sul posto ci si può accorgere e si può toccare con mano la realtà. Ancora cronaca, picchiavano e minacciavano il padre per ottenere i soldi per acquistare la droga. Due fratelli gemelli sono stati così arrestati e posti a domiciliari dagli agenti della squadra mobile coordinati dal vicequestore aggiunto Pierfrancesco Muriana che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dei 27enne pescaresi per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti del padre nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016. Le indagini hanno consentito di accertare che i due gemelli avevano ripetutamente picchiato, minacciato, insultato il genitore con frequenti richiesti di denaro per soddisfare il loro bisogno di droga costringendolo a vivere in uno stato di sofferenza psicologica e di totale sottomissione. Il GIP del Tribunale di Pescara con una ordinanza del 22 luglio scorso aveva inizialmente rigettato la richiesta del PM Paolo Pompa di applicazione della misura cautelare. Successivamente l'ordinanza era stata annullata con un provvedimento del Tribunale degli esami di L'Aquila a cui il PM aveva fatto ricorso e divenuta poi esecutiva dopo il rigetto di un ulteriore ricorso per cassazione proposto dai legali dei due giovani indagati. La CNA Abruzzo esprime forte preoccupazione per la situazione del depuratore di Pescara e per i tempi lunghi previsti per una nuova realizzazione alla vigilia della stagione balneare ormai alle porte. Paolo Renzetti. Tomei, mancano pochi mesi all'inizio della stagione balneare e si parla ancora di problemi del mare, del fiume di Pescara e di questi lavori per il nuovo depuratore che potrebbero prolungarsi. Siete preoccupati? Certo che siamo preoccupati. Un problema annoso che si ripresenta puntualmente ogni anno prima della stagione senza che ci siano risposte né per le imprese balneari e tanto meno per i cittadini. A questo punto cosa bisognerebbe fare secondo voi? Innanzitutto da parte delle istituzioni, della politica, dei segnali chiari e operativi. Noi ci siamo lamentati perché il Consiglio Comunale è andato deserto l'altro giorno su un provvedimento che comunque è un forte aiuto, è una forte risposta per il problema dell'inquinamento. Cioè voglio dire se non si colgono queste occasioni per poter fare delle cose, in questo caso un secondo depuratore, voglio dire come riusciamo a prepararci di fronte alla stagione e soprattutto come facciamo a dire ai turisti e ai cittadini che si stanno facendo delle cose e che siano sicuri. I imprenditori balneari sono a dir poco arrabbiati anche perché quella passata è stata una stagione record con numeri negativi per i balneatori ma per tutto anche l'indotto. Il rischio è che anche il prossimo anno, la prossima estate, possa ripetersi tutto questo? Certo, noi abbiamo peraltro effettuato un'indagine su 54 comuni costieri italiani dove il fatturato e gli arrivi sono aumentati e su Pescara abbiamo scontato invece questa negatività per i problemi legati appunto alla balneabilità. Ecco, questo è il terzo anno, francamente insomma diventa difficile poter pensare che le cose possono migliorare se continuiamo in questo modo. E continuano le schermaglie tra l'azienda Acqua Santa Croce e la Regione Abruzzo a farne le spese sono soprattutto i lavoratori, il patron dell'azienda chiarisce che le ragioni del sequestro preventivo operato dalla Guardia di Finanza. In seguito al sequestro preventivo di 20 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza la Santa Croce S.p.A. per mancato pagamento dell'IVA e imposte sul reddito l'amministratore dell'azienda produttrice di acqua minerale precisa ho ereditato debiti e tasse non pagate dalla vecchia gestione dello stabilimento dell'Acqua Santa Croce a Canistro. La vicenda nasce dalla dichiarazione IVA relativa al 2007 quando il proprietario era Faroni. Secondo Colella la dichiarazione IVA è stata fatta ma non è stato versato il dovuto in un'unica soluzione optando per la rateizzazione. Oggi sarebbe in corso l'iter per la rottamazione delle cartelle secondo Colella e una buona parte della somma è oggetto di contenzioso di fronte alla commissione tributaria. Il sequestro emesso lo scorso anno e poi annullato dal riesame sarebbe garantito dai beni di Colella e non dalle risorse societarie. Il sequestro preventivo disposto dal Tribunale dell'Aquila garantisce in via provvisoria all'erario il recupero delle somme fino all'estinzione del debito. Colella sottolinea che la società è solida, tranquilla, operante e solvibile. Alla luce di tutto ciò, dice Colella, continueremo la battaglia per vedere riconosciuti i nostri diritti rispetto a quanto stiamo subendo dalla regione Abruzzo che ci ha messo illegittimamente i sigilli impedendoci anche di operare con la sorgente Fiuggino. E dopo l'affollatissima assemblea dei comitati contro la realizzazione del metanodotto Snam interviene la senatrice 5 Stelle Enza Blundo bacchettandola la titanza della politica. Il servizio. La mancata realizzazione del metanodotto Snam è fino a oggi merito inequivocabile dei comitati che si sono costituiti e non certo della politica delle nostre amministrazioni locali. È quanto ha dichiarato alla parlamentare aquilana del Movimento 5 Stelle Enza Blundo durante l'assemblea dei comitati no Snam svoltasi a Paganica la scorsa domenica. Già dall'incontro in regione Abruzzo, continua la parlamentare, divenne evidente che i tecnici di Snam stessero difendendoli indifendibile di fronte alla documentazione scientifica portata ad alcuni esperti geologi in cui si attestavano i gravi pericoli che tale opera, se realizzata, può comportare, a maggior ragione adesso che tutto il centro Italia è interessato da un intenso sciame sismico. Il presidente Gentiloni, aggiunge, dovrebbe consultare gli esperti per un'attenta rivalutazione del progetto. Io stessa ho ricevuto una risposta dal ministro De Vincenti all'interrogazione parlamentare da me presentata, non esaustiva, anche a riguardo del principio di precauzione imposto dall'Europa. Nessun tavolo serio è stato attivato per esaminare attentamente il progetto e si è invece deciso di portare avanti scelte legislative sbagliate come lo sblocca Italia che il Partito Democratico ha fortemente voluto, contrarie alle lotte dei comitati che si ribellano da sempre alla realizzazione del metanodotto. La volontà politica ora deve dimostrarsi sincera, inamovibile, unitaria con tutti i sindaci del cratere. Solo così riusciremo a salvare la nostra regione da questo ulteriore scempio ambientale. Bocciata in Consiglio Comunale a Francavilla la mozione dell'opposizione per bloccare l'iter per la demolizione di Palazzo Sirena a Francavilla al mare. Vediamo. Sindaco Luciani, allora va avanti l'iter per la demolizione di Palazzo Sirena. Ieri c'è stato un Consiglio Comunale dove non è passata la mozione presentata dall'opposizione. Sì, come ho spiegato ieri, dopo tre ore e un quarto di discussione il tema è stato sviscerato. Ho spiegato al pubblico presente, ai cittadini presenti e ai consiglieri che poi alla fine compete a chi è stato eletto di prendere una decisione. Questa decisione l'abbiamo presa, siamo convinti che sia la decisione migliore e quindi andiamo avanti nell'iter per l'abbattimento del Palazzo Sirena e per la riqualificazione dell'intero centro cittadino. A proposito di riqualificazione, una volta demolita questa costruzione, cosa nascerà in quella zona? Beh, intanto l'idea è quella di demolire una parte del Palazzo Sirena, quindi la parte più vecchia, di aumentare lo spazio della piazza, quindi di trasformare in una vera e propria agorà. Poi l'amministrazione ha delle idee ma lancerà anche dei concorsi. si aprirà anche ai giovani tecnici per capire se ci sono idee che possano migliorare quella che è il nostro punto di partenza, però si va verso una maggiore pedonalizzazione, dobbiamo eliminare le autovetture da piazza Sirena, dobbiamo trasformare quel centro veramente in un salotto, nel salotto buono di Francavilla. E ad inizio estate sarà pronta la pista ciclabile di San Giovanni Teatino che vedrà il proseguimento di quella della città di Pescara. Sindaco Marinucci, ci sono importanti novità per quanto riguarda la pista ciclabile San Giovanni Teatino, ci sarà uno proseguimento, se così vogliamo dire, con quella di Pescara? Sì, stiamo costruendo un anello di collegamento con l'area metropolitana che passa da San Giovanni Teatino, va verso Pescara, lungo fiume e torna indietro verso Spoltore e quindi San Giovanni Teatino. Il nostro è un grande impegno per garantire la sicurezza a quelle famiglie che vogliono cambiare il proprio stile di vita, approfittare di questi percorsi che sono chiaramente totalmente sicuri e che possono garantire anche un momento di svago o addirittura cambiare le proprie abitudini, come ho detto prima, cercare di usare molto più spesso questo mezzo che è anche ecologico. Voi state lavorando da tempo per far capire ai cittadini che bisognerebbe usare meno l'auto e cercare di muoversi con mezzi alternativi? Sì, abbiamo cominciato a lavorare principalmente sugli spazi alla famiglia, quindi abbiamo fatto un parco da 17 mila metri quadrati attrezzato, abbiamo cominciato a costruire percorsi ciclopedonali e dove possibile lo trasformiamo in ciclabile, abbiamo aderito a quel protocollo della Regione Abruzzo che, come avete detto poi poc'anzi, partirà anche davanti alla Chiesa di Botta e si collega con lo nostro già percorso attivo e credo che San Giovanni Tedino e Pescara saranno ancora molto più vicine. Passiamo ora alla pagina sportiva, ripresa degli allenamenti per il Pescara in vista del prossimo impegno con il Chievo, come promesso domenica scorsa, Zenec Zeman ha messo subito sotto torchio i giocatori concorsa e gradoni, ma il tutto in un clima di rinnovato entusiasmo dopo la netta vittoria ai danni del Genoa, il servizio. E' arrivato anche il momento dei gradoni per i giocatori del Pescara. Zenec Zeman lo aveva affermato davanti alle telecamere di Premium domenica scorsa, da martedì si comincia a lavorare sul serio e stimolato dai colleghi aveva parlato di mille metri e gradoni. Il boemo è stato di parola così in questo martedì di ripresa degli allenamenti, prima ha diviso i giocatori in due gruppi, ordinando i giri di campo sotto lo sguardo di almeno 200 tifosi che si sono assiepati sulle gradinate del campo del Poggio degli Olivi. Dopodiché sulla tribuna sono saliti gli steward che hanno chiesto ai tifosi di liberare metà della gradinata per permettere ai calciatori di fare gli esercizi sui gradoni. Zeman e i fidi Cangelosi e Ferola hanno messo sotto torchio i calciatori biancazzurri, ma in un clima di rinnovata fiducia ed entusiasmo generati dalla goleada rifilata al Genoa, il 5 a 0 dell'Adriatico Cornacchia ha restituito nuova linfa ad un ambiente che si era depresso e si stava rassegnando alla retrocessione, ma che ora confida nelle cure del tecnico boemo per una sfida all'apparenza ai limiti dell'impossibile. Le prossime tre partite potranno chiarire se il Delfino può rimettere in piedi la rimonta a salvezza. È appena iniziata la settimana di lavoro che porterà alla trasferta di domenica prossima al Bentegodi di Verona contro il Chievo, ancora lavoro differenziato per Campagnaro, Girardino e Baibac, assenti Biraghi e Caprari impegnati nello stage della Nazionale a Coverciano. Zeman li riavrà a disposizione da giovedì. Presenti tutti gli altri, compreso un bovo che avanza la sua candidatura per la prossima partita, anche se scalzare qualche giocatore dall'undici che ha sgretolato il Genoa non sarà facile. E mentre i biancazzurri hanno sudato, il Chievo, che si è allenato subito, 24 ore dopo la sconfitta interna con Napoli, ha trascorso un martedì di riposo e riprenderà a lavorare con la doppia seduta del mercoledì. Intanto il giudice sportivo ha combinato 5.000 euro di ammenda alla società clivense per cori d'insulto dei tifosi verso quelli avversari domenica scorsa. Nessun provvedimento disciplinare o multa per il Delfino. E tra poco avrà inizio la partita di recupero di Lega Pro tra Teramo e Pordenone. per le ultimissime, dal Bonolis ci colleghiamo con Jacopo Forcella. Jacopo. Vivo pomeriggio dallo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, recupero della terza giornata di campionato con il Teramo penultimo in classifica che cerca un risultato positivo contro il Pordenone che invece si alza nelle zone alte di classifica. Andiamo subito a leggervi le informazioni perché nel Teramo ci sono delle novità sia dal punto di vista degli uomini che dal punto di vista del modulo. Partiamo però con gli ospiti del Pordenone allenati da Bruno Tedino, 4-3-1-2 come anticipato alla vigilia, Tomei, tra i pali, Temenzato, Stefani, Ingegnere e Pellegrini della difesa, Burrail, Playmaker con Mizuraka e Buratto che saranno le due pezziali e poi Cattaneo alle spalle delle due punte che sono Armà e dietro inviati. Dunque Berrettoni va in panchina esattamente come il grande ex Danilo Bulevardi. accanto al tecnico il secondo postiere da sede Agostini, Fadovan, Berrettoni, appunto Bulevardi, Marchi, Marminiago, Paroni, Zappa e Matteo Gerbaolo. Per questo riguarda il Teramo, come detto, qualche novità sul punto di vista della formazione iniziale perché sulla carta dovrebbe essere un 3-5-2 ma con la possibilità che diventi un 4-4-2 come se fosse un 3-5-2, Narciso tra i pali, Caini, Speranza e Altobelli in difesa imparato e carcale in soli esterni a Maddio Playmaker. Due pezziali con Di Paolo Antonio e Bascolo in attacco, attacco pesante per i biancorossi con Barbuti e Sanzolini. Il primo è un 3-5-2 ma che potrebbe diventare un 4-4-2 con lo spostamento di Altobelli sull'out di sinistra, l'arretramento di imparato nei 4 di difesa allargando Di Paolo Antonio sulla fascia sinistra ma ovviamente sono tutti i discorsi sulla carta che vedremo da poco sul terreno di gioco. Accanto al tecnico Guido Ugolotti in pantina vanno il secondo portiere Tomas Calone poi Palladini, Petrella, Camilleri, Ilari, Masocco, Icipioni, Carraro, Pratangelo, Martini, Cesarini e Rastempezzi. Cardino dell'incontro Alessandro Frontera della sessione di Bologna assistente Giuseppe Antonacci di Barletti e Sante delicato della sessione di Chiana nel biancorossi squalificato salenti disponibili di Ancumallini, Branduani e Spighi ma il Teramo oggi deve assolutamente conquistare un registrato positivo per tirarsi fuori da una classifica che la vede al penultimo posto a cuota 21-1-1, le squadre non sono ancora sul terreno di gioco per il momento e tutto dello stadio Gaetano-Bologna alle 14.30 e l'affincio di inizio di Teramo-Fordenone si segnala la presenza in dettaglio ma anche l'affincio della prescara degli eletti Sebastiani è la diretta responsiva di Pianca Toro Luca Leone per assistere alla partita di questo pomeriggio per il momento e tutto, poi tutto E lasciamo il calcio perché dopo 25 anni torna in Abruzzo il grande tennis il circolo di Francavilla al mare ospiterà l'evento dal 22 al 30 aprile prossimi Vediamo Una manifestazione internazionale che abbiamo fortemente voluto sia per l'evento sportivo in sé ma anche per promuovere il nostro territorio e la nostra regione Sarà un evento con un monte premi importante e speriamo che ci saranno quindi atleti di caratura internazionale dal cinquantesimo in giù che potranno partecipare a questo evento che secondo noi è non solo importante dal punto di vista sportivo in sé ma anche di promozione del nostro territorio Parliamo di questa manifestazione di Francavilla un torneo internazionale di grande prestigio vogliamo dare qualche numero? Il strato è un torneo con 32 giocatori in qualificazione quattro dei quali passeranno al tabellone principale dove ci saranno 28 ammessi più i quattro qualificati e tra i 28 ammessi ci saranno anche quattro qualcar cioè quattro inviti speciali da parte dell'organizzazione Vedremo all'opera quelli che potranno essere perché no anche i futuri campioni del nostro tennis Sì, di fatti nel 2003 Rafa Nadal vinse il suo primo torneo professionistico a Barletta che appunto è uno dei tornei del circuito Challenger italiano e tanti altri campioni in passato hanno iniziato la carriera qui Juan Carlos Ferrero, Sebastián Grosjean tantissimi giocatori che sono arrivati nei primi dieci della classifica mondiale hanno mosso i primi passi nel tennis professionistico proprio qui in Italia Come mai avete scelto Francavilla? Era forse il momento giusto per cui questa regione tornasse nel circuito principale Ed è tutto per questa prima edizione del TG6 L'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 19 Grazie per l'attenzione e buon proseguimento Grazie per l'attenzione e buon proseguimento Grazie a tutti.